Di Nicola, la notizia di poche ore fa, la scoperta di questa discarica a Celano, però non è stata una sorpresa in assoluto? No, disgraziatamente questo Abruzzo ci dà ogni giorno delle sorprese purtroppo negative. Qui stiamo parlando di una discarica che è grande come 50 campi di calcio, vicino all'autostrada, nella zona di Celano. E questa però è una discarica di cui aveva parlato Angelo Venti già nel 2009, c'era stato già un servizio TV nel 2015. Allora, noi vorremmo dire a tutti i cittadini che quando un cittadino fa un esposto o dichiara che c'è qualcosa che non va, le amministrazioni hanno tutte le possibilità di attivarsi. C'è una legge ben precisa che permette a comuni, province, regioni di intervenire concretamente. Non c'è bisogno della magistratura e delle forze dell'ordine per obbligare degli amministratori che dovrebbero fare il loro mestiere a fare quello che devono fare. Quindi purtroppo è un guaio, ma è un guaio anche per un'altra ragione, perché vicino all'autostrada poi c'è anche bussi un po' più verso Pescara. Ed è terribile, un'altra discarica ancora. E vicino a questa autostrada si vuole fare una grande opera, si vuole bucare la montagna con riserve d'acqua in pericolo per un investimento di 5 miliardi, mentre abbiamo ancora delle discariche pericolosissime che possono danneggiare la salute dei cittadini. E' veramente incredibile. Noi non sappiamo più che cosa dobbiamo dire. Solo una sollevazione morale e civile della popolazione può obbligare le istituzioni e tutti quelli che devono lavorare a fare il loro mestiere.